Ciao a tutti ed eccoci pronti per una nuova consegna nello spazio Allora, eravamo rimasti qua che dicevano di visitare l'engineering Vediamo un po' cosa ci si può comprare Questo ancora no Che devo avere più reputation A good reputation Però questo penso sia abbastanza comodo Perché permette di riorientare le torrette Quindi lo compriamo E se ne possono comprare ancora due Lo vedremo poi Ok Un'altra cosa che voglio provare a comprare è questi qua Che sono gli shield Ho avuto i soldi quindi Ci servono soldi Allora Vediamo qui questa missione qua Qua sono tre cargo Quindi mettiamo Uno Tre Motore qua E via Oh Adesso Come sempre bisogna cercare sempre di Qua Comunque Trenta secondi Ah ok Perfetto Costruire più cose Però se io le posso riorientare Vediamo un po' Ah perfetto 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 Ok Ma così Così è tutta un'altra cosa Se si possono riorientare No 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 Il cargo Piano Ok Allora Riorienta Perfetto Ah ok Si può fare Senza cliccare direttamente col mouse Ottimo come pollo Quasi quasi Previvei Già un altro thruster Perché Ok Prendiamo di shield Perfetto E quindi Ah ok Farò uscire Un esagono attorno Praticamente Ok Soldi 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 Perfetto Così È istantaneo Il turn Quindi ottimo Anche questo Così Questo Com'è amico È verde Vediamo un po' No Cattivo Si Questo Questo simbolo Brutto simbolo Cattivo simbolo Io doveri uccidere Ah sta arrivando Questo qua Lo giriamo Vediamo un po' Brutto affare Questo Che attaccano Da tutte le direzioni Ah 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 Un po' Ok Amore Uh Mamma mia Gira Ah no 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 Ah quindi Non si possono incrociare I flussi Delle armi Maledizione Che vedete Non posso girare Oltre Perché c'è qua L'altro cannone Eh Simpatiche Tante cose simpatiche In questo gioco Ma se io Costruisco Ok Vediamo un po' Andiamo Un altro thruster Questo non spara E non ce la faccio E qui è dappertutto Ok Ma gli distruggo il cargo Quindi Vai Vai che ce la faccio Oh madonna Eh mi sa che Avrei già dovuto Comprare qualche upgrade Del motore Allora Eh Non ce la faccio Spara Ah In tre secondi Peccato Eh già cominciano ad essere abbastanza difficili Sicuramente poi lo proverò anche a livello più difficile Eh ad Ard Tranquillamente Con te Sono arrivati tutti i salvi Express delivery Per di Ok Ecco 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 E' l'uomo che fuma di X-Files Questo Per i più giovani lo so che è difficile da comprendere E' l'uomo che fuma di X-Files Mmm I picciotti I picciotti Ah Ah Il dental plan Perché in tutti i lavori americani Il dental plan E' la prima cosa che guardano E' la prima cosa che guardano E' che hanno un sacco di soldi Certo Perfetto Ah Ecco Mancava E' la prima cosa che guardano Tec'è una Explosiva Competition E' una E' una Dirty business Non l'avrei mai detto Che simpatico Prendiamo prima qualche upgrade Specialmente I miei motocoli Ok Questa È un modo per guadagnare soldi Perché dà 50 Quanta scrap Rapid fire Needs a power generator Power generator sono questi Ah ok Quindi Quindi per costruire Per fare l'upgrade Questo qui del rapid fire Dovrei costruire Vicino Alla torretta Un power generator Altrimenti non attiva le abilità È interessante Anche questo No Sì sì Eh qui è una scelta Voglio provare i missili Comunque Nella prossima missione Allora Da adesso cercherò di fare Giusto una missione Per ogni video Quindi al prossimo video Ciao 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 Grazie mille